buonasera ciao a tutti e bentornati e quindi riprendiamo la creazione della nostra app ve le ricordate qui avevamo iniziato a fare la lista dei nostri dolci accompagnatori potevamo aggiungere tramite il pulsante più uno e va bene va bene quindi adesso vediamo un attimino come tematizzarla cioè vedete anche qui diciamo non è proprio nel nostro layout vorremmo un attimo sistemare e organizzare un po il meglio il tutto cosa vogliamo fare vogliamo ad esempio dare iniziare a dare un po di colore da nostra app che se la guardiamo così sicuramente non è un app di successo tra le varie opzioni che material app ci dà qui dentro come vedete abbiamo dark team che lo vedremo dopo ma soprattutto se andiamo a scorrere giù abbiamo team team che vedete accetta un team data allora che cos'è un tema un tema definisce i colori ad esempio della nostra app per ogni componente se volessimo potremmo colorare lo sfondo della nostra della nostra app e magari potremmo fare in modo che lo sfondo cambi sulla base se sul nostro telefonino c'è o non c'è la modalità dark se qui mettessimo team data come vedete c'è ad esempio il row il dark e via dicendo sul light mi darebbe gli us material 3 diciamo true mi darebbe diciamo in realtà non mi dà un team data perché è una funzione statica però dovrei creare tutto quello che riguarda tutti quanti componenti cioè dovrei stilizzare tutti i componenti quindi il team di flutter ci viene incontro definendo ad esempio quello che si chiama il copy esempio se io qui metto team.copywith qui col copywith significa prendi il tema di default che sarebbe questo e poi copialo cioè quindi sarebbe come se facessi un duplicato cioè copialo con queste differenze esempio se qui mettessi primary code color color spunto blu e faccio un'ottore lo ad troviamo questa l'app bar team che sarebbe stilizzare questa barra qui che se vi ricordate e andiamo a vedere qui avevamo messo dov'è che l'avevamo messa eccola qua avevamo messo a questa app bar ora se qui mettiamo app bar team e l'app bar team diciamo app bar team.copywith qui a questo punto background color colors.green mettiamo green tanto per vedere se riusciamo a stilizzare qualcosa devo fare un autre load vediamo vedete ho iniziato a cambiare i colori della nostra app quindi in questo caso stiamo dicendo guarda del tema di default copialo con questa sovrascrittura quindi l'app bar team abbiamo detto prenditi il tema di default dell'app bar e la sua volta ricopialo però settando il background color con il verde ovviamente qui oltre background posso dirgli di centrare il titolo no com'era center tight è un alignment se non ricordano è un booleano booleano si quindi dico true lui mi centrerà il titolo andiamo a vedere guardate e l'ha centrato ora avete visto che qui ci sono a parte i temi dei vari componenti ci sono anche un sacco di colori il color scheme cioè veramente ce ne sono tanti andare a stilizzare tutti i componenti ma anche quelli che non dovremmo utilizzare perché ci fanno bene così diventerebbe cioè per carità si può fare però diventerebbe forse troppo oneroso ora per risolvere un pochino il problema si definisce quello che è uno schema di colori se mai avete siete mai andati a vedere material design come predispongono loro i colori vi fanno vedere che praticamente e sulla base di un colore principale creano le varie differenze di colori sulla base del colore principale maniera tale da creare app che siano usufruibili anche da chi ha problemi di vista quindi andiamo come prima cosa a crearci uno schema uno schema e andiamo a definirlo qui come costante esterna la nostra app quindi la avremo potremmo utilizzarla un po dove ci interessa ma in realtà la useremo solamente qui quindi la chiamiamo key color scheme uguale e qui ci dà sempre flutter questa classe punto rom seed eccolo qui praticamente qui ti diciamo un colore principale questo caso possiamo provare a mettere i colori yellow quindi creerà tutta un insieme i colori e non so perché questo si con la messo qui sulla base del colore principale che diamo yellow il giallo quindi se volessimo cambiare ad esempio il background color sulla base del giallo qui potremmo dirgli che i color scheme punto e guardate quanti colori ci mette a disposizione lo schema qui esempio potremmo mettere il primary salviamo andiamo a rivedere e mi salta fuori questo giallino un po scuro perché salta fuori questo giallino un po scuro perché è quello che avevo detto prima cioè benissimo quindi abbiamo iniziato a vedere come tematizzare la nostra applicazione ora andiamo appunto a tematizzare un po meglio allora qui come seed color siccome la nostra app dovrebbe essere azzurina blu azzurina qui il seed color lo mettiamo non con i colori di default ma andiamo a creare un colore const color e qui vi faccio vedere una notazione che 0xff276202 andiamo a continuare a questo punto a tematizzare allora qui abbiamo messo il primary color cancelliamo tutto e qui abbiamo una delle proprietà ve l'abbiamo visto prima è il color scheme e qui posso metterci key color scheme quindi diremo di utilizzare questo tema il key color scheme generato dal colore principale nostro adesso salviamo andiamo a rinfrescare come vedete è cambiato è quasi come tornato all'inizio se andiamo a prendere i più voi forse non riuscite ad apprezzarlo ma dopo lo vedremo meglio qui e quando sono andato sopra al text box a questo è diventato un blu scuro quindi ha iniziato a colorare i vari componenti la base del color scheme che gli abbiamo indicato ora siccome però noi la nostra app vogliamo tematizzarla con questo colore un override che andiamo a fare è dirgli che il primary color qui facciamo un override sul color scheme perché noi vogliamo invece quello bruzzurino lì quindi creiamo e diciamo che è questo colore vediamo bellissimo e andiamo a rinfrescare non è ancora cambiato granché andiamo invece a tematizzare come abbiamo fatto prima l'app bar team che è il punto più vedente qui andiamo a fare l'app bar team come abbiamo visto prima con il copy width vedete quasi tutti i temi hanno il copy width cioè hanno già il tema di default e noi possiamo sovrascriverlo facendo il copy width a questo punto sull'app bar ovviamente gli diciamo che il background color è sempre questo colore andiamo a fare un refresh eccolo qui diventa blu e ovviamente dobbiamo cambiare il colore della scritta quindi sovrascriveremo il foreground color e magari facciamo una cosa invece di chiamarlo key color scheme la chiamiamo light color scheme così questo è il tema chiaro benissimo quindi qui diremo light color scheme e punto on primary andiamo a vedere il risultato ecco bianco forse un po' sul tendente sull'azzurino però stiamo usando il color scheme che viene generato dal dal from seed e vogliamo dare lo sfondo anche tutta la nostra applicazione vogliamo dargli un colore diciamo un azzurino tenue ora qui se vi ricordate noi usiamo lo scaffold nell'home screen usiamo lo scaffold e quindi possiamo impostare lo scaffold background color che colore gli diamo vediamo anche questa volta un colore customizzato diciamo from a rgb quindi diamo pieno colore poi il rosso gli diamo 2.39 il verde 2.48 il blu diamo 2.55 e diciamo un azzurino tenue vedete è saltato fuori quasi un ciano e quindi abbiamo iniziato a colorare come vedete stiamo lavorando tutto quanto sul tema non stiamo andando a modificare i singoli componenti cioè li modifichiamo modificando i valori del tema ora cosa possiamo fare possiamo migliorare un pochino anche le card queste qui se vi ricordate nel info pet no my pet list pet card eccolo qui avevamo usato la card e quindi dobbiamo andare a tematizzare la card benissimo come facciamo cerchiamo card team ovviamente per tutte queste property potete andare a vedere la documentazione ufficiale e troverete tutta la spiegazione di tutti i componenti di tutti i temi di tutte le proprietà quindi card team e qui in questo caso facciamo card team punto copy with ormai avete capito allora questo mi sembra un grigetto lo andiamo a definire magari un bianco andiamo a vedere vediamo se è bianco sì decisamente meglio decisamente meglio e andiamo a metterci anche un po' di margine allora il margine se vi ricordate noi prima andavamo a prenderlo e a modificarlo direttamente sul componente ma possiamo tematizzare anche i margini della nostra card quindi in questo caso margin e qui possiamo dirgli un edge insets orizzontale gli diamo magari un 10 è già meglio dai si si spezza un po' di più a questo punto glielo darei anche in verticale proviamo a vedere vertical magari gli diamo un 5 5 di verticale vediamo eh dai già già meglio ora un altro tema che possiamo fare è quello del text del text team in questo caso non c'è un card team non c'è un text team ma c'è noi dobbiamo andare a prendere per tematizzare il testo dobbiamo fare team data punto text team text team sarebbe quello di default è quello che già abbiamo però noi dobbiamo andarlo sovrascrivere quindi dal team data che è il tema di default prendiamo il text team e poi gli diciamo di fare il copy with vedete in questo caso dobbiamo lavorare leggermente in modo leggermente differente cioè mentre prima avevamo i temi personalizzati per ogni componente per quanto riguarda il text team invece dobbiamo andarlo a prendere dal tema di default text team e copy with bisogna un attimino abituarsi con questa sintassi ora vogliamo modificare un attimino il testo dell'appbar che se non ricordo male nel text team dovrebbe essere un title large vi spiego meglio che cos'è il text team il text team sono tutti gli elementi di tipo testuali però il title large se non erro dovrebbe andare a finire qui quindi proviamo a stilizzarlo quindi qui title large se andiamo a vedere è un textile è lo stesso textile che usavamo quando volevamo customizzare direttamente il componente quindi qui facciamo textile e qui possiamo metterci e le nostre se noi volessimo fare un colore proviamo un po' vediamo se tanto andiamo a beccare il colore giusto andiamo a prendere l'elemento giusto adesso qui no non appare qui non appare qui non appare qui niente il title text team il title large non è questo dovrebbe essere qualcos'altro e se volessi ad esempio customizzare questi diciamo questi text input altra divergenza sul sul tema quindi abbiamo visto prima questo poi questo e se vogliamo andare a tematizzare gli input che dovremmo fare che dovremmo fare abbiamo qui una property che si chiama input decoration team in questo caso è l'unico modo che abbiamo per sovrascriverle l'input decoration team è crearlo dall'inizio quindi dobbiamo fare input decoration team quello che vogliamo fare qui in realtà il grafico qui non voleva gli input box in formato material 3 quindi con la label che cambia in questo modo ma voleva che fossero fissi quindi ora ci proviamo innanzitutto ci mettiamo un bordo proviamo proviamo a metterci un bordo quindi border e qui vorremmo fare un bordo qui ci vuole un input border ora sì io qui eccolo qua abbiamo l'outline input border questo ci permette di definire il bordo se adesso qui ci mettiamo il border side ok abbiamo il border side abbiamo anche abbiamo anche il border radius vabbè iniziamo col border radius border radius punto circular vogliamo vedere anche la sfondatura al nostro input box 4.2 che poi non è un input box ma un text field quindi 4.0 e magari vediamo anche di disegnargli il border side il bordo proprio lo disegniamo qui vedete abbiamo queste proprietà possiamo provare a colorarlo colors punto parliamo intanto con il black vediamo come salta fuori facciamo un reload vediamo se siamo stati bravi ecco e già abbiamo iniziato vedete abbiamo cambiato quasi layout della nostra applicazione guardate gli input box sono diventati con il bordo ora il nero non è che mi piace proprio proviamo a vedere di cambiarlo magari qui ci mettiamo un colors facciamo un blu vediamo bisogna sempre fare un altro load facciamo più ecco quando ci andiamo sopra diventa già un po' più carino continuiamo allora sinceramente il flow da label che cambia in questo modo non è che vorrei dargli una nota un po' un po' diversa vorrei cambiare un attimino anche questo comportamento dovrebbe esserci la possibilità di dirgli che questa questo floating non ci sia mai se metto never e adesso facciamo un altro load facciamola più ecco non c'è facciamo un'altra modifica il bordo qui vorrei che fosse un po' più un po' più stondato vediamo mettiamo un 8 qui vediamo come diciamo che se avessi eh dai è già più più carino vediamo se riusciamo a dare anche un po' di stile anche la nostra label label style prende un textile quindi textile e qui proviamo a dargli light color scheme primary vediamo se cambia qualcosa vediamo è diventata un po' azzurina non so se riuscite a vederla diciamo che questi colori tenui forse non riuscite a apprezzarla però è diventata un po' azzurina qua perché se eccolo qua abbiamo anche il floating label style e qui prende sempre textile benissimo quindi andiamo a risoprascrivere vediamo un po' se riusciamo magari a ottimizzare un po' sì forse è meglio così ora vediamo di sistemare anche questi due pulsanti che sono orrendi magari li mettiamo perché ho messo un breakpoint li mettiamo qui quindi abbiamo il test team l'input decoration team card team scaffold ora sistemiamo un attimino questi pulsanti e andiamo a vedere che pulsanti avevo messo andiamo qua qui c'è la drop down error eh gli elevated button perfetto quindi qui andiamo a vedere eccolo qua elevated button team quindi andiamo qui e vediamo c'è soltanto style qui abbiamo soltanto lo style quindi questo qui è lo style bottom style va bene questo è come quando andiamo a stilizzarlo normalmente quindi style from e guardate qui abbiamo un'altra opzione cioè il style from e allora proviamo dagli background color vediamo se vediamo vediamo mettergli light color screen perché non mi è salta fuori eccolo qui se io gli metto un primary vediamo un po' che salta fuori oh mamma mia no 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 l'avevamo usato prima sull'app bar no non mi piace per niente diciamo che vorrei dargli il colore dell'app quindi io gli darei questo colore qua no qui vediamo questo colore vediamo un po' dai più carino con questo azzurino e ovviamente andiamo a sovrascrivere il foreground color in questo caso gli direi un bel color white vediamo ecco decisamente più carino ora il pulsante visto che stiamo cercando di dare un layout più o meno rettangolare vorrei cambiare questo questo modo di vedere i pulsanti quindi qui per far questo dobbiamo cambiarlo shape quindi gli diamo un round rectangle border possiamo dargli border radius border radius punto circular 8 questo dovrebbe cambiare andiamo a vedere subito ecco andiamo a metterci qui uno stondamento quindi anche qui usiamo lo shape rounder tangle border in questo caso vogliamo soltanto i due bottom i due basso a sinistra e basso a destra quindi diciamo border radius border radius only perché vogliamo tanto quello in basso a sinistra e in basso a destra e qui diciamo bottom left radius circular gli diamo diciamo 18 e il bottom right radius circular radius punto circular sempre 18 facciamo un'altra load eccolo qua va bene va bene e allora inseriamo però anche questa cosa qui che proprio non mi piace allora qui abbiamo creato il tight large però non ce l'ha preso eccolo qui avevamo preso il tight large però non ce l'ha preso andiamo a farglielo prendere quindi ritorniamo sulla nostra home screen andiamo nella nostra app qui avevamo il text il text e vogliamo dirgli a questo punto lo style di andarsi a prendere quello che abbiamo definito nel nostro tema quindi questo tight large che è definito in questo schema come facciamo qui bisognerebbe andare a prendersi quello stile lì ora vi faccio vedere questo io posso fare team team punto off del context quindi diciamo prendi il tema del contesto e usa di text team il tight large guardate chiudiamo un attimo questo abbiamo detto prendi il text team text team tight large perché perché il team of context ci dà esattamente il tema che stiamo usando cioè questo l'unico tema che abbiamo definito vedete quindi abbiamo preso del tema del contesto siccome il contesto è questa nostra material app è questo ed è il tema che stiamo definendo prendiamo il tema del contesto questo prendiamo la property text team è il tight large quindi se adesso qui nel tight large cambiassimo e mettessimo il rosso e facciamo un reload eccolo qua vedete e adesso ho preso il rosso quindi è molto utile definire i temi perché posso definire un tema teoricamente potrei anche cambiarlo questo tema e fra un po' lo faremo e riferendomi al tema contestuale che stiamo usando cambiano i colori anche della nostra applicazione e magari anche la forma della nostra applicazione allora qui ovviamente il rosso non è proprio la cosa che volevo fare diciamo che qui mettiamo un bianco quindi ritornerà bianco benissimo e proviamo a vedere se riusciamo a dargli magari un font font weight eh volevo fare font size 24 font weight font weight normal vediamo un po' è saltato fuori un po' più un po' più grande avevamo visto meglio avevamo intravisto che c'era anche un'altra property che si chiama dark team dark team viene usato quindi diciamo material app ci dà la possibilità di avere un tema chiaro sarebbe il tema di default e il dark team che sarebbe il tema scuro che come vi dicevo prima è quel tema ad esempio che viene usato quando arriva il sole io ad esempio è il buio scusate quando arriva il buio per non affaticare la vista per non affaticare anche un po' per risparmiare un po' di risparmio energetico del telefonino dovete sapere che se voi avete tutto quanto il bianco il telefono quando lo tenete acceso consuma di più quando invece ne è scuro consuma di meno e noi possiamo settarlo da impostazioni del sistema allora andiamo a definire un tema diciamo dark e lo facciamo un po' no spusate era dark team data dark eccolo qui punto copy with e qui abbiamo definito un tema ovviamente qui non lo possiamo vedere c'è un ulteriore property ve la metto qua sopra se no abbiamo tre possibilità possiamo settarla di default a dark a light o a system se diciamo system sceglie quale dei due temi prendere sulla base dell'impostazione che ha scelto l'utente nel suo sistema operativo come facciamo vederlo premiamo qui andiamo qua andiamo sulle opzioni eccolo qui cerchiamo se non ricordo male si chiama team eccolo qui dark team lo abilitiamo quindi vedete cambia il colore di tutto è diventato quanto scuro andiamo di nuovo nella nostra app ora adesso non abbiamo ancora fatto il reload andiamo a fare reload ed ecco qui ha preso le impostazioni di default quindi ho fatto il team data dark copy with non abbiamo ancora sovra scritto niente però ha preso le impostazioni del nostro sistema se adesso vado a ricambiare vediamo se riesco a farlo senza dover riavviare il tutto qui rimettiamo ok era già messo rimettiamo di nuovo il chiaro andiamo a vedere la nostra applicazione è ritornato chiaro vedete quindi chiaro se vado qui metto dark vado qua è tornato scuro quindi abbiamo la possibilità di avere due temi sulla base delle impostazioni che ha scelto l'utente ma se invece volessimo forzare il tema chiaro o il terra scuro posso nient'altro che forzarlo da qui quindi uso sempre il dark a questo punto facciamo un'altra l'applicazione è scura ma ovviamente se adesso qui vado qui non cambierà l'impostazione adesso tutte le applicazioni diventano chiare tranne la mia che rimane sempre in dark mode e ovviamente anche in questo dark mode possiamo creare uno schema possiamo creare uno schema per il dark mode quindi qui facciamo un'altra var dark color scheme uguale color color scheme color scheme punto from seed e il seed color in questo caso gli diamo sempre lo stesso colore questo a questo punto nel dark che abbiamo il copy width gli diamo che il color scheme è il dark color scheme andiamo a fare l'autre load vedete ha iniziato a cambiare però già le card saltano fuori molto chiare perché perché il color scheme fatto così tira estrae con questione insieme di palette di colori che è basato su un tema diciamo chiaro infatti qui abbiamo la possibilità di dirgli che il brightness è di tipo brightness dark andiamo a settare questa opzione facciamo un reload e vedete che i colori sono cambiati guardate una singola property come abbiamo cambiato il sistema di colori della nostra app ovviamente così in dark mode non è che mi soddisfi molto inoltre se vado a fare il più i nostri textbox e i nostri bottoni sono tornati praticamente come prima quindi la cosa migliore e secondo me da fare a questo punto è prendere il mio tema questo qui e andarlo sopra scrive ovviamente il color scheme lasciamo quello che c'era prima andiamo a copiarci il tutto e ce lo ricopiamo qua dentro e poi andiamo a modificarlo salviamo andiamo a fare un altro reload sempre in dark mode e vediamo allora la prima cosa ovviamente è andiamo a vedere intanto commentiamo facciamo così l'abbiamo copiato commentiamo il tutto ritorniamo ai valori di default e poi iniziamo l'appbar team lo decommentiamo allora il background color allora su background color proviamo a dargli vediamo che salta fuori dark color scheme punto primary container vediamo un po' facciamo reload qui il foreground è basato su light invece noi diciamo di prendere il dark vediamo facciamo per il momento lo facciamo bianco i bordi mi va bene così benissimo andiamo a settare il background dello scaffold e questo azzurino non mi piace granché ma preferisco nero commentiamolo andiamo a prendere i nostri card vediamo un attimo qui salta fuori ah perché abbiamo messo questo color white commentiamolo vediamo salta fuori questo colore quindi decommentiamo questa parte allora elevate battle team qui abbiamo messo il azzurro con il bianco e poi i due circular vediamo un po' come salta fuori così sì mi piace così dai benissimo andiamo a ripristinare l'input andiamo a ripristinare l'input decommentiamo il tutto vediamo un attimino come salta fuori mamma mia che brutto allora la label diciamo che ah questo qui vediamo se io li metto dark color scheme primary e anche qua facciamo un bel reload facciamo il più decisamente meglio allora andiamo sul nostro ad pet allora sistemiamo la fronte del tema quindi adesso abbiamo un tema coerente e andiamo a sistemare un pochino questo layout perché proprio non allora andiamo qui andiamo a metterci un bel container vediamo col container non dovrebbe succedere niente però adesso ci mettiamo anche il bordo perché siamo qui facciamo un decoration box decoration quindi diciamo di metterci non il border radius ma il border border punto all e qui ci mettiamo il colore qui ci mettiamo il colore di che cosa del colore degli altri text allora intanto torniamo momentaneamente al light quindi qui ci mettiamo light ovviamente qua adesso commentiamo un attimo questo poi lo riabilitiamo allora allora stiamo mettendo il bordo qui ci mettiamo un bordo per farlo assomigliare a un text field quindi qui vogliamo mettere lo stesso bordo e come vi ho fatto vedere prima facciamo il team punto off context dell'input decoration team in questo caso perché vediamo il bordo dell'input text no vi ricordate prima abbiamo per fare il colore dell'input del text field abbiamo fatto l'input decoration team punto border punto border side punto color e vediamo che salta fuori facciamo reload facciamo di nuovo da più va bene in realtà però gli mancherebbe la stondatura allora andiamo a sistemarlo un attimino border radius border radius punto all punto circola 4 vediamo vediamo allora allora padding aggiungiamo un po' di padding quindi diciamo vedete qui un po' da sinistra un po' di destra andiamo aggiungercelo facciamo un orizzontale di 16 andiamo a vedere facciamo la più e inizia già a prendere più forma sta prendendo il row quindi qui main access alignment andiamo a fargli uno stretch anzi facciamo un space between benissimo andiamo a vedere più eh già più carina no qui mettiamo size box 8 16 ce lo andiamo a copiare questo il container poi c'è il drop down poi c'è un altro drop down drop down infine c'è la riga con i bottoni andiamo a vedere dovrebbe già essere più spaziato eh qui sta prendendo forma no che vi sembra magari qua lo space di 16 è un po' troppo potremmo ridurlo un pochino magari a 8 vediamo andiamo a vedere sì decisamente meglio con uno spazio di 8 quindi eravamo qui con questi due bottoni li abbiamo allineati tutti e due a destra io farei così proviamo a vedere se facciamo uno space between adesso dovrebbe metterli uno a fianco all'altro magari diciamo di centrarli li centriamo tra di loro anche se in realtà non è necessario facciamo un altro widget e ci mettiamo un expanded mettiamoci anche su questo expanded salviamo andiamo fare la reload beh dai decisamente meglio no a questo punto sapete una cosa visto che l'appetito via mangiando questi due qui li spostiamo giù e come facciamo a spostarli giù allora qui dovrei se no metterci 32 allora va ancora più giù ma c'è un altro componente possiamo mettere a posto di questo che si chiama spacer ora ecco qua li abbiamo spostati giù lo spacer non fa nient'altro che prendere tutto lo spazio disponibile sul layout ora andiamo sulla home dove andiamo a far vedere la più il più ora lo facevamo vedere noi avevamo qui un metodo vediamo se lo riesco a trovare eccolo qui ora qui facciamo quando viene premuto il pulsante viene fatto vedere questa modale che dal basso scrolla verso l'alto purtroppo va sopra qui a questi elementi per fare in modo che non vada sopra questi elementi c'è un widget che si chiama safe area ma al di là del del widget la safe area è l'area che flutter ci mette a disposizione per fare in modo proprio che non vada sopra ad esempio nell'emulatore qui non ci abbiamo la telecamera ma qui ad esempio ci potrebbe essere la telecamera e come facciamo ad esempio nel show modal e bottom sheet qui c'è una property use safe area mettiamo a true e se adesso andiamo a fare not reload non reload semplice ma not reload vedrete che la modale si ferma prima diciamo dello stato del sistema ovviamente se questa prendeva che qui c'è la telecamera che è molto più invasiva sarebbe andato più giù ora per la show modal bottom show modal bottom sheet c'è questa property use safe area c'è anche in altre parti ma c'è proprio un widget che vi permette di avere la stessa identica cosa un po' è quello che fa anche diciamo material app ma in realtà se voi non volete usare material app ma volete creare una maschera vuota senza l'app bar senza niente potete usare il safe area andiamo a vedere sempre nell'ottica di tema se io giro questa sarà la nostra applicazione ora per carità potremo anche andare a utilizzarla ma preferirei che l'utente tenesse l'applicazione sempre diciamo in verticale quindi come facciamo per forzare per forzare la nostra UI sempre in verticale andiamo nel main dart e qui dobbiamo fare prima del run up dobbiamo andare a dirgli quali sono le quali sono le posizioni che può assumere il nostro cellulare cioè la nostra applicazione è solo in verticale è solo in orizzontale può usare tutte e due benissimo quindi prima di fare il run up qui abbiamo una classe che ci mette a disposizione perché si chiama System Chrome viene importata dai services qui System Chrome ci dà la possibilità di intervenire a livello un po' più basso sempre sono sempre metodi sono sempre proprietà però ci permette di dialogare con il sistema e dirgli ad esempio qual è il modo preferito l'orientamento preferito per la nostra app quindi il set prefer orientation in questo caso noi vogliamo che la nostra app sia sempre solo in verticale quindi in device orientation possiamo dirgli portrait app in questo modo stiamo dicendo guarda che voglio avere soltanto in verticale mi sta dando un errore perché se andiamo a vedere qui come magari avete immaginato in realtà vuole una lista perché potrei dirgli che la voglio in verticale in orizzontale in questo caso diamo un unico elemento che è in verticale andiamo a fare il salvataggio facciamo un'altra reload e qui mi da un errore ora tralasciando l'errore che ci sta dando ve lo spiego io del perché se riesco a disabilitare i breakpoint va bene magari ve lo faccio vedere qui sta dicendo eccolo qua sta dicendo che per usare diciamo questo questo metodo la nostra app deve essere prima di lanciare il run up deve essere inizializzata o meglio praticamente questo qui è come se fosse una chiamata sincrona quindi deve settare l'orientamento della nostra app solo dopo dovremo avere la possibilità di lanciarla infatti qui non è un void ma ci dà un van e qui possiamo dirgli fn che è una non value e fare il nostro run up in questo modo portiamo tutto qua sotto se adesso provo a rilanciare vediamo comunque sia non funziona perché perché dobbiamo essere sicuri che la nostra applicazione sia distanziata sia inizializzata quindi prendiamo questa scritta lo troverete anche in altri andate a usare alcuni package vi dirà che deve essere inizializzata prima di lanciare il run up riproviamo e vedete che l'errore è scomparso questo spesso vi servirà ora se andiamo a cambiare l'orientamento vedete la nostra app rimane fissa in verticale possiamo ruotarla anche altre parti e non cambia ora vi faccio vedere l'ultima cosa che riguarda più o meno sempre la tematizzazione qui nella nostra home screen abbiamo dove 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 eccolo qui abbiamo determinato che questa card queste card devono avere da questo container un'altezza di 150 va da sé che magari su dispositivi un po' più piccoli 150 potrebbe essere troppo quindi abbiamo la necessità di sapere quant'è ad esempio l'altezza del nostro dispositivo come facciamo qui posso definire un final h è uguale e qui vi faccio vedere le media query media query non questo in realtà media query punto off perlomeno come abbiamo fatto col team data off context punto size punto width in questo caso eh abbiamo messo h questo caso mi sta dando la larghezza del mio dispositivo se volessi l'altezza posso far così h e dirgli che questa è l'altezza in questo modo ho larghezza e altezza del mio dispositivo quindi cosa posso fare posso ad esempio determinare che questa altezza prendo di dividere il mio schermo in quattro parti questo è uguale al posso dire che è uguale all'h diviso 4 quindi mi creerà un container sulla base del dispositivo dove sono quindi potrà avere delle altezze diverse diviso per 4 vediamo un po' ed è saltato se io divido per 3 qui vediamo vedete che si allunga e va a prenderlo sulla base dell'altezza del dispositivo quindi io avrò un layout più o meno corrispondente in base alle dimensioni del mio dispositivo quindi rimettiamo 4 possiamo mettere anche che però prenda il massimo valore tra l'altezza del viso 4 e 150 perché non voglio che si sgrani troppo la carta perché vedete diventa proprio brutta ora qui il max diciamo di importare il pacchetto dart dove è eccolo con math che riguarda tutta la matematica quindi mi sembra che ci sia anche la radice quadrata e logaritmi eccetera noi ci serve per fare il max tra due valori quindi dove eravamo eccolo qui diciamo che il container dei miei animali deve avere un'altezza diviso 4 comunque sia massimo di 150 pixel andiamo a fare la reload ed ecco qui però avete visto ad esempio con i temi e con poche semplici istruzioni possiamo proprio stilizzare tutto del tema cioè possiamo cambiare come reagisce il text field possiamo colorare le varie label ad esempio qui nell'info l'info pet che adesso è proprio brutto certo l'icona vedete salta fuori un po' sbordata perché probabilmente bisogna dargli il size andiamo in lino 16 è piaciuto ragazzi direi che questa sera abbiamo messo parecchia carne al fuoco abbiamo visto come tematizzare come fare un doppio stacca è un doppio tema sia per dark mode sia per light mode come settarlo o programmaticamente oppure a livello di sistema abbiamo visto addirittura l'ensor initialization app non l'abbiamo proprio spiegato bene però abbiamo iniziato a capire più o meno che cosa significa abbiamo visto come settare il preferred layout se è solo in orizzontale in verticale o tutte e due abbiamo visto i vari temi per i vari componenti alcune volte si fa col copy width alcune volte bisogna crearlo da zero alcune volte bisogna fare style from va bene ragazzi perché stasera direi che può andar bene così se siete d'accordo e buona serata a tutti spero vi sia piaciuto ciao ciao